C.I.M! 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 E' ancora il campione per il sistema SIW. L'arbitro della Contesa è il Supremo. Attento Cecil, attento Cecil. L'arbitro della Contesa non è light questa sera. Sì, sì. Certo! Sì, sì. Allora! Vecchie! Attento Metsch, perché ti usa come cittura! Vettori! Ma guardate, è light, figlio. È ancora il tuo champion? Non sono il champion. Ma, figlio. Ti sono solo il champion. Ma, figlio, tu mi è solo giudicato. Ma posso vedere da teoi tanti. Ma posso vedere che c'è qualcosa in mezzo. Non è né il momento né il luogo. Adiano vuole il wrestling, l'ha sempre voluto e sempre lo vorrà. Tentato il trucchetto, non è andata. Adiano lo ha battuto una volta, lo ha battuto due volte Bob e poi... Appercatto all'angolo. Porta giù, nuovamente. A prendere. Subito fossa, subito fossa, no. Spezzata la fossa. Spezzata la mandibola, anche dietro Adriano. Se ha esso il bole, ribaltare tutto quanto, suplex. No, 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 no. Ancora ci riprova niente. Attenzione Adriano, lo porta su. Spezza schiena. Ha fatto incazzare il leone sbagliato. E poi... ancora una volta. Il leone. Tre, 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 tre. Colpo dopo, colpo. Tre, 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 tre. Spezza schiena dopo, spezza schiena. Il cubico ha chiesto il terzo. Eccolo qua. Terzo. Spezza schiena. E poi... Fosse dei leoni. È chiusa, è chiusa. È chiusa. Facciamo subito Cecil. Adriano. Impenetrabile. Il leone di Roma. Un vero atlet. all' אhm! Chi è arrivato? Chi è arrivato? Chi è arrivato? E questo è il nuovo campione Wilde. Deus ex machina, ma che si è messo in testa Ivan Blake? Certo Bob c'è da dire, arriva a cercare rogne. Sicuramente non è qui per lottare, visto l'abbigliamento e visto anche come lo conosciamo noi, è venuto qui per parlare. E con il titolo Wilde che era di Adriana sulla spalla di Ivan Blake. Dio, il nostro cuomo! Giù sotto, giù sotto! Giù sopra! Giù sopra! Giù sopra! Giù sopra! Qui Adriano si trattiene! Vorrebbe attaccarlo forse, dopo quello che ha fatto. Signore e signore! Benvenuti a un nuovo episodio di Tuesday Night System! Io sono... ...il vostro nuovo campione Wild! Senga, merda! Senga, merda! Senga, merda! Senga, merda! A posto? Amico caro! Come ci si sente? Com'è? Com'è guardarmi dal basso verso l'alto? Com'è essere il secondo a Roma? Però lo so, ti vedo, ti vedo, lo vedo, lo vedo che stai fremendo. Quindi, visto che io sono... ...un Dio generoso... Io... ...ti concedo la parola. ... ...è tutto tuo. ... 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